piromantia, piromantia, lancia la piromantia eh, ho capito però che lì c'è la strega, eh vabbè che se muori ti rievo qua, guarda con quello che si spazia a me ma scappa, ma no sai che io non ho voglia cazzo ah, è qua oh, guarda mi dispiace ma hai proprio sbagliato ah, sei morto no, aspetta, vai al primo vai al primo, esatto, no, questo coglione non si merita di, non si merita di vivere ma manco per il cazzo, perché è un pittone in merda ah, la lucertolina la facciamo in un altro momento, magari si, è formato ma c'è che? ma tu guarda così oh, cazzo, mi ha dato l'arma della strega eh, ma ci sarà mica un muro invisibile tra l'altro c'è un po' c'è un po' gambari della strega di fuoco ma quanto cazzo c'è un culo faccio schifo aspetta, ma quella roba lì che cos'è? si, è tipo un alabarda no vabbè, è fighissimo nuova run nuova run ah, c'ha l'invaso vabbè, tanto è tutto pulito, è tutto vuoto ah, salve e tipo ehi salve � con la Con l'arma a fare... Ancora? Mostafa 2002, è qua. Se va fatto. Perché tutti ci cascano, giuro, non è difficile, è una piromantia. Non dovreste cascare nelle piromantie. La doppia di King of Gankers. E ancora? Ma la tripla? La tripla? Allora, dove cazzo è? Tanto la mappa è pulita, mi ci spiace. Perché la gente ci casca nelle mie piromantie? Cioè, giuro, non è difficile scappare. Te la sei meritata tantissimo. Eh, me lo sono meritata un po', che dici? Un altro? Deve morire in fretta questo. Eh sì. E manco dirlo. Grazie. Era il vaso? Sì! Eccolo! Vabbè, è tutto pulito, guarda. Mi spiace. E ho sbagliato tasto. Brava me. Ah no, questo adesso va a sinistra. Ci facciamo i cazzi nostri, noi? Sì. Cerchiamo di non sprecare vita. Vabbè, vabbè, fai il colpo mega ipercaricato. Bravo. Prendevo proprio quello. Ah di è, mi raccomando. Eh, guardalo. Eh, eh, eh. Mi eccolo. Guardalo! Mi eccolo. È un problema. Che stronzo. Ma non è vero un cazzo. Potevo fargli un riposo e non l'ho fatto perché avevo l'arco di merda. Ah, se n'è andato? Ok, ti evoco, a posto. Sei anche incazzato. Ah che? Eh, sei incazzato perché tu hai evocato. Se n'è accorto. Sto andando ma se n'è accorto. Se n'è accorto. Questo è svicio. Eh sì. Eh, se ne va. Ucciso. Si è curato un casino di volte. Molto più di me. Stava tenendo le fiasche. Eh dai, basta! Basta! No, torniamo indietro. Prendiamo indietro. C'erano indietro? Vabbè. Due? Ah, due. Ci hanno invaso in due? Sì, la gente si sta proprio divertendo. Ma mi sa che anche voi lì c'è il vaso. Molto a fase di sicuro. Non dimentico. Non dimentico. Eccoli, tutti e due. Molto a fa, ha cambiato l'arma. Molto a fa sicuro, attenzione. Eh, c'è anche ragione. L'abbiamo un po' fatto incazzare. Aspetta che mi levo l'arco. Ok. Non farti ammazzare. Mi incanto. Aspetta, devo stare un attimo tranquilla. Sì, però no. Ah, ok. L'ho colpito. Perché sto laggando come una stronta. Ehm, no, laggo troppo, non capisco. Ehm, tra poco il portatore dell'host muore. Eh, ma cazzo, sto laggando troppo. Cioè, non vedo veramente quello che... Ehm, è una cazzata però che mi lagghi. No, no, no. No, veramente non capisco un cazzo. Ehm, è una cazzatura. Ehm, è una cazzatura. Ehm, è una cazzatura. Ehm, è una cazzatura. Ehm, è una cazzatura.